Vincenzo, grazie di tutte le emozioni, numero uno, grazie mille, ciao Vincenzo, grazie, buco al lupo, buco al lupo eh. Sei il numero uno, grazie, un saluto amici, ci vediamo Shaker Up, sì, un video, grazie, 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 grazie. Un'altra speciale di Speedway Shaker Up con il mio amico Jasmine. Vieni, un saluto agli amici, ci vediamo Shaker Up, mi raccomando. Bene, ciao amici, ci vediamo Shaker Up, facciamo Shaker Up con il nostro canale. Numero uno, Hansen, numero uno, ci vediamo Shaker Up, con Hansen, numero uno, Hansen, video. Oh, video, oh bene, Hansen. All good? Good. Very good. number one Hansen adesso vediamo se possiamo beccare Tom Dumoulin Tom un saluto veloce grazie un saluto amici un boccalupo Tom guarda puoi salutare gli amici del ciclismo shakerato Diego in boccalupo ciao ciao gli amici del ciclismo shakerato grandi ciao Diego grazie ciao in boccalupo ragazzi scusami saluto gli amici del ciclismo shakerato ciao 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 primo saluto un ciclismo shakerato un boccalupo ciao ah ciclismo shakerato agli amici del ciclismo shakerato un saluto un saluto molto cordiale li attendiamo al giro speriamo dove noi contiamo di essere il protagonista un boccalupo un saluto agli amici del ciclismo shakerato grande ciao franco peliziotti il delfino il delfino grandissimo ciao franco grazie ciao un saluto agli amici del ciclismo shakerato un saluto agli amici del ciclismo shakerato alp grande allora abbiamo fatto 2500 video grazie a questo grande campione Mario Chiesa che ormai quanti anni sono? che ti chiamo? due o tre? forse anche di più? quattro eh anche quattro o cinque che rompo le scatole è un piacere no un piacere ciao e adesso vedetevi la carrellata di... ciao 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 La esperienza, il giro, le gambe, le gambe Bellissima Ah, avete visto questa puntata un po' speciale con qualche giorno d'anticipo Ci rivediamo giovedì dopo la finale di Coppa Italia a parlare a Santa Marta Il giorno dopo, vedremo chi un gol avrà Ciao, alla prossima Con calcio per me.com.it ci riesco a scecare altro E ti raccomandissimo